Quindi avete il vantaggio di non avere colori a svantaggio, ma avete lo svantaggio che non avete il vantaggio su nessuno, lo so, è stata un attimino complicata da dire. Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Magiboobs, nuovo showcase, vi porto quello che a mio parere per il momento è in assoluto il miglior team free-to-play che si sia mai visto nella storia di Legends ed è un qualcosa che si potrebbe definire quasi competitivo, sì, perché i personaggi al loro interno fanno assolutamente il loro lavoro, sono al 100% free-to-play e raga funzionano veramente veramente bene. Questo team rimarrà sicuramente al primo posto della lista di team free-to-play, almeno fino all'arrivo del terzo colore della Legends Road, quindi lo Zenkai di Gotenks e chiaramente fino all'arrivo della squadra Ginyu Zenkai che quella, mamma mia raga, stravolgerà il meta. In ogni caso, prima di cominciare, un bel like subito sulla fiducia per supportare me, il canale e il video, dopodiché se ancora non l'avete fatto, siete nuovi del canale e vi interessano questi contenuti, allora premete su quel tasto iscriviti. Eccolo qua il team free-to-play delle meraviglie. Abbiamo come personaggi giocanti Radish e Zenkai 7, che ripeto, a mio parere è davvero un buon personaggio, non ottimo perché comunque c'ha chiaramente delle limitazioni nel suo kit, essendo un extreme. Però è in assoluto una delle sorprese più gradite che siano uscite su Legends nel periodo recente. Dopodiché abbiamo Shallot a 6 stelle in forma Super Saiyan God, in quanto, come potete vedere, il team è abbastanza orientato sulle Blast. Dopodiché abbiamo Kidku Zenkai, che resta sempre un grandissimo personaggio, nonostante ci sia qualcosina adesso, tipo un certo Gohan Super Saiyan 2, che lo sta counterando male, 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 nell'ultimo periodo, però raga, quando non ve lo trovate contro, è decisamente un'ottima scelta. Dopodiché abbiamo tre panchinari, di cui uno totalmente free-to-play, e sto parlando di quel nappa capelluto. Dopodiché abbiamo Vegeta del GT, che è free-to-play anche lui praticamente, perché lo trovate comodo comodo nel Master Pack 3, e ne sono certo che ce l'avete nel box almeno a 6 stelle. Ultimo personaggio, che magari questo potreste non averlo a 6 stelle, in caso sostituitelo con un qualsiasi personaggio che vada a buffare i Saiyan, in modo degno, il migliore che avete, è Radish Verde, doppio buff in attacco per tutti i Saiyan. Buono anche lui, ma comunque tranquillamente sostituibile con un personaggio qualsiasi. Raga, questo era il team, gli equipaggiamenti li vedete? Andiamo subito in PvP e rimarrete stupiti. Partiamo contro un team Saiyan. Ok, Goku Verde come starter, infatti non mi son messo Radish come primo, immaginavo. Va bene, Clash. Eh, non troppo bene. Decisamente meglio lui. Va bene, ci prenderemo qualche danno su Kid Q. Ok, ha già finito. Nope. C'è un po' di lag che rende strane le cose. Ok, lo trasformiamo subito. Va bene, finalmente ha switchato. Gugnetti diretti. Ok. Ok, super safe. The fuck, ma com'è partito un take-all dall'altra parte dello schermo? Puoi smetterla di laggare per piacere? Te ne sarei grato. Ok, finalmente lo mettiamo in combo. Ok. Oh, perfetto. Gli facciamo anche questo. Va bene. Ciao Radish. E gli facciamo questo. Nice. Ok. Ok, ok. Abbiamo recuperato, raga. Ci siamo studiati il suo modo di giocare. Va bene, ci mettiamo il più inutile. Ma io rascio. Perché no? Una compenetrazione strana. E... Boh, andiamo di blast. C'ho una mano veramente pessima. Eh, immaginavo che me la zecchasse, ma... Se avessi scelto Strike, mi sa che comunque i danni non bastavano. Quindi, pace. Ok. Nice. Dentro Shallot. Perché se no avrebbe messo subito Goku, nel caso avessi messo Radish. Ok, lo mette comunque. Ma almeno non ci abbiamo il colore a svantaggio. Ok. Ah, tardi, tardi, tardi. Bravo. Ok, dai. Sacrifichiamolo. Anzi, torna in vita. Perfect Vanish. Ah, non se n'era accorto, mi sa. Mmm, ok. Bella giocata. Mamma mia, che match che sta facendo fuori. Infinito. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Nope. Vai, Shallotto. Oh, raga, è stato bello, bello teso. Errori iniziali. Avversario molto bravo. Quindi, sono soddisfatto del match. Prossimo. Ma che abbiamo qua? È proprio Gonzenkai. È lui, raga. Ok. Ok. Che succede, bro? Va bene. Ok. Non capisco il suo modo di giocare, ma ce lo prendiamo per buono. Ah. Ripeto, non capisco il suo modo di giocare, ma ce lo prendiamo per buono. Ok. Vai, Radish. Fai quello per cui sei pagato. Ok. Fail mio. Vai, Kidku. Incassati tutto quanto. Va bene. Shallotto dentro. Lo trasformiamo. E prolunghiamo la combo. Ok. No, 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 no. Mi avrebbe messo in combo e non volevo, sostanzialmente. Tutto qua. Lo so che c'è ancora Gohan. Sarebbe stato meglio tenerlo per lui il Rising Rush. L'abbiamo anche fallito. Ma... Chill, guys. Ok. No, pigliati sti pugnetti. Nice. Ecco. Gohan l'abbiamo sistemato comunque. Ok. Attacco diretto anche qua. E forfè. Prossimo match. Abbiamo battuto anche lo Zenkai 7. Era 7. Era 7, sì. Sì. Team Vecita Family. Non pensavo si portasse quel Trunks Red. Ok. Switchato subito, infatti. No. Nice. Vai, Radish. Fammi vedere anche a colore a sfavore cosa sai fare. Fammi vedere cosa sai fare anche a colore a sfavore, bro. Attingi da quel chi. Come pesta, raga. Come pesta, Radish. Salta, salta che la mamma ha fatto i gnocchi. Ok, ok. Bravo. Incazziamo tutto quanto. E dentro Kig qua è una scelta. Ok. Ultimate. Ultimate. No. Drop. Ragazzi, veramente molto, molto, molto paziente in questa fase. No, 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 no. Bravo. Ok. Ok, please stop. Oh, finalmente. Va bene, facciamolo. Uh, abbiamo appena usato una verde. Dai che forse non c'è la zecca. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Bravo Radish. Ci dai sempre soddisfazioni. Ma, ma... Pensavo fosse una blast, giuro. Ok, vai Kidku. Ciao, lui c'è ancora la riduzione del recupero HP. Ok. Ok. Finally. Spariamola comunque, giusto per non sprecarcela. Peccato però, poteva essere una kill su Trunks. Verde. Nice. Questa era perfect. E questo è un Trunks morto. Ottimo. Uh, ma ha messo... È vero, è vero, è vero che mette più due timer count quando entra. Va bene, dai, ci possiamo perdere Radish a questo punto. Ha decisamente fatto il suo in questo match. No, non ha saltato. Ma l'abbiamo preso comunque. Raga, Vegeta Family assolutamente completo. Battuto dal team free to play. Prossimo match. Ultimo match, team Regen. Uh, Fat Buu per iniziare. Inatteso. Nice. Vai Radish. Vai Radicchio. Allontanatelo. Trasformazione. Pugnetti. Switch. Clash. Non ci fermiamo più. Ok, schifo. Ah, bastava poco per batterlo. Peccato che... Mi ha fatto proprio pietà. Va bene. È giunto il turno di subire qualche danno. Ok, fermo. Nice, era perfect. Vediamo se entra se è il giallo. No, ok. Ok, ok, ok. Ok. Ah, per un attimo. Per un attimo non c'avevo ancora il Vanish. Nice, eccoci qua. Dentro, Charlotte God. Ehi, droppo. Preso. Va bene, abbiamo un'altra special. Spero che non me la becchi. Non avrebbe senso. Ok, ok, ok. 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 No. Nice. Fat Buu. Alla main ability non ricordo se l'abbia già usata o meno. Ah, su Fat Buu purtroppo i danni che fanno... Eccola qua. Dicevo, i danni sono pochi purtroppo. Ah, tutta... Tutta in... No, mi è scliccato. È un pacifista, raga. Troppo tardi. Vai Radish, tankeggia. Eccolo qua. Secondo Rising. È il secondo, sì. Non ricordo. Boh, Strike. Non penso sia Strike. E infatti non è Strike. Ok, ci perdiamo Radish. Non benissimo onestamente perché ha il suo cell rosso ancora full HP se non sbaglio. No. Vai Kidku. Picchia, picchia, picchia. Nice. Comunque passa il tempo ma Fat Buu, raga, è sempre un muro gigantesco da buttare giù. Niente, non muore. Si rifiuta di morire Fat Buu. Ha detto not today. Ok. Ok. Bucchiamolo. Va bene, buoni, buoni danni. Non temo altri Rising Rush. Quindi buttiamo Shallot. Fermati. Ok, preso. Basta, muori Fat Buu, muori. Ora, ora, basta. E muori anche tu, Cell. Raga, il regen è tornato proprio il regen di un tempo. Quello duro, duro, duro da buttare giù. Andiamo a parlare un attimo di questo team. Team Saiyan Free to Play. Come rende? L'avete visto direttamente voi nei match. A mio parere rende molto, molto, molto bene per essere un team completamente free to play. Merito anche del fatto che abbia all'interno due Zenkai, uno Sparking e un Extreme che fanno decisamente loro. Anche comunque Shallot è chiaramente un personaggio hero, ma decisamente sopra la media. È sopra la media anche del 90 e passa per cento di tutte le SP, quindi siete in una botte di ferro. Chiaramente il team ha delle pack, nel senso che avete tre personaggi e due colori. Neanche tre, in quanto uno è Shallot appunto. Quindi avete il vantaggio di non avere colori a svantaggio, ma avete lo svantaggio che non avete il vantaggio su nessuno. Lo so, è stata un attimino complicata da dire. In ogni caso, a mio parere, questo team è da utilizzare se non ci avete team messi meglio, più stellati o completi, in quanto è fattibile per tutti. E raga, farmate sti personaggi free to play perché sta uscendo qualcosa di veramente carino nel complesso. Io vi mando un bacione a tutti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate del team, chiaramente. E raga, al prossimo video.